GPS significa Geographical Ground Positioning System ovvero sistema di posizionamento geografico a terra Nel video che andiamo a vedere sulla sinistra c'è un timelapse sulla terra piana con la rotazione della sfera celeste mentre a destra andiamo a vedere il video tradotto della spiegazione per la navigazione celeste Per chi ha compreso il grande inganno comprende anche che la mancanza del parallasse nel modello indicato a seconda delle stagioni sostiene la terra piana Prima di postare qualsiasi commento invito a visitare la pagina Indice Alfabetico di cui trovate il link nella descrizione del video con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni Qualsiasi domanda come ad esempio Stagioni, Sole che rimpicciolisce, Luna capovolta Stelle al sud, Perché non vedo fino in America Effetto Corioli, Pendolo, Perché mentono eccetera, dove esiste già la risposta viene cancellata La sfera ha un raggio infinito ed è concentrica alla Terra Hanno dato un nome a questa sfera Sfera celeste e continuiamo a chiamarla così ancora oggi Dalla Terra sembra muoversi da est ad ovest Una rotazione completa ogni 24 ore Nel corso degli anni gli astronomi hanno selezionato 57 stelle facilmente identificabili sulla sfera celeste per scopi di navigazione Il resto può essere ignorato Inoltre i navigatori hanno usato tradizionalmente i pianeti Venere, Marte, Giove e Saturno la Luna della Terra e il Sole La stella polare o stella del nord si trova approssimativamente al polo nord celeste e il resto della sfera sembra ruotare attorno ad essa Ogni corpo celeste ha un punto sulla Terra direttamente sotto di esso Questa è chiamata posizione geografica o GP del corpo celeste A volte viene chiamato sottopunto Ti trovi al GP di quel corpo celeste quando è direttamente sopra al tuo zenith A questo punto dobbiamo introdurre il concetto di moto apparente tra la sfera terrestre e quella celeste Utilizzando il concetto antico dell'uomo che la Terra è stazionaria immaginiamo i corpi celesti sulla sfera celeste che ruotano da est a ovest Utilizzando il concetto antico dell'uomo che la Terra è stazionaria immaginiamo i corpi celesti sulla sfera celeste che ruotano da est ad ovest La velocità del moto è di un grado di arco ogni 4 minuti o 15 gradi ogni ora oppure 360 gradi ogni 24 ore Assumiamo che in un dato momento il cerchio dell'ora del Sole coincide con il meridiano primario celeste 4 minuti dopo sarà di un grado ad ovest del meridiano primario celeste Un'ora dopo sarà 15 gradi ad ovest e così via Abbiamo usato il Sole come esempio ma il moto apparente è comune per tutti i corpi celesti I cerchi orari ruotano costantemente da est ad ovest Il termine che descrive la quantità di rotazione si chiama angolo orario L'angolo orario viene sempre misurato da ovest a 360 gradi dal punto di riferimento Nella navigazione celeste usiamo tre angoli orari specifici Greenwich Locale e Siderale a seconda dell'origine della misurazione Il primo di questi l'angolo orario di Greenwich è paragonabile alla longitudine sulla Terra tranne che l'angolo orario di Greenwich è misurato solo in direzione ovest fino a 360 gradi mentre la longitudine viene sempre misurata a est o ovest da 180 gradi dal meridiano di Greenwich Usando il Sole come esempio possiamo misurare il suo angolo orario di Greenwich in qualsiasi momento dal meridiano primario celeste da ovest al circolo orario del Sole Questo angolo è indicato come l'angolo orario di Greenwich del Sole Il secondo dei tre angoli orari l'angolo orario locale viene misurato dal meridiano celeste dell'osservatore da ovest rispetto al cerchio orario del corpo celeste Se l'osservatore si trova a 90 gradi ovest e l'angolo orario di Greenwich del Sole è a 120 gradi allora l'angolo orario locale del Sole è a 30 gradi Gli angoli orari locali degli altri corpi osservati per la navigazione celeste devono essere calcolati la Luna, Venere, Giove, Marte, Saturno Utilizzando il concetto antico dell'uomo secondo cui la Terra è stazionaria immaginiamo che i corpi celesti sulla sfera celeste ruottino da est a ovest La misura angolare del meridiano primario celeste al circolo orario dell'Ariete il cerchio orario principale chiamato l'angolo orario di Greenwich dell'Ariete è elencato nell'almanacco aereo per ogni data e ogni ora ma quello che il navigatore deve sapere ovviamente è l'angolo orario di Greenwich della stella che sta osservando Gli angoli orari di Greenwich delle 57 stelle di navigazione potrebbero essere tabulati proprio come è stato fatto con il Sole la Luna ai pianeti ma richiederebbe una pubblicazione mostruosa invece il navigatore usa l'angolo orario di Greenwich dell'Ariete più il terzo dei tre angoli orari l'angolo orario siderale l'angolo orario siderale è la misura angolare dal cerchio orario primario a quello di una data stella questo angolo non cambia mai questo è importante ricordate che le stelle sembrano muoversi ma non cambiano la loro posizione l'una rispetto all'altra quindi anche se la sfera celeste sembra muoversi il nostro cerchio orario primario e i cerchi orari delle stelle mantengono le posizioni relative costanti pertanto gli angoli orari siderali così come le declinazioni delle varie stelle sono considerati fissi l'orario siderale e la declinazione per le 57 stelle della navigazione sono elencate sulla copertina interna dell'almanacco aereo il navigatore può determinare l'angolo orario di Greenwich per qualsiasi stella di navigazione semplicemente aggiungendo il suo angolo siderale fisso l'angolo orario di Greenwich dell'ariete per l'orario desiderato ora facciamo il riassunto quando si determina l'angolo orario di Greenwich la declinazione di un corpo celeste si conosce la sua posizione geografica o il sottopunto della Terra poi quando effettivamente si prende la misura che indica la vostra distanza dalla posizione geografica o sottopunto dell'astro si può determinare una linea della posizione sulla superficie terrestre per determinare questa linea di posizionamento utilizzeremo il sistema dell'orizzonte che verrà mostrato nella seconda parte di questa serie che verrà mostrato più a